Salve a tutti amici di Campania nel pallone, eccoci qui ritrovati per il consueto appuntamento con il punto del giorno dopo. Il Napoli batte anche l'Empoli, si impone al Castellani con il risultato di 2-0 conquistando l'ottava vittoria consecutiva in campionato, la 21esima in 24 giornate, la 19esima nelle ultime 20, nonché la 27esima totale in 31 gare tra Serie A e Champions League. Numeri che parlano chiaro, che ci raccontano di un Napoli leggendario e che sono sinonimo di manifesta superiorità. Quest'oggi a rendere ulteriormente gustoso il pranzo domenicale è stata la sconfitta rimediata dall'Inter al Dallara contro il Bologna che ha reso definitivo il più 18 sulla seconda posizione in classifica, vantaggio segno di una vera e propria marcia trionfale a cui mister Spalletti e i suoi magici ragazzi non hanno alcuna intenzione di porre freni. Al Castellani, concluso come meglio, non si poteva questo tour de force che ha visto gli azzurri affrontare ben tre trasferte nel giro di appena otto giorni. 8 giorni che hanno ulteriormente legittimato la straordinaria forza, consapevolezza, autorevolezza e personalità di questa squadra da sogno ad occhi aperti. Una squadra che non lascia mai nulla al caso, che ha sempre il piede puntato sull'acceleratore, che riesce sempre ad essere sul pezzo e ad affrontare con la medesima concentrazione, applicazione, determinazione, abnegazione ed intensità ogni singola partita a prescindere dai punti di vantaggio, dall'avversario che si ha di fronte e dai vari fattori esterni. Spalletti, anche alla vigilia della trasferta di Empoli, ci aveva tenuto a tenere alta l'attenzione utilizzando la metafora degli occhiali da fabbro con i quali si può vedere soltanto ciò che si ha davanti e l'invito a concentrarsi esclusivamente sull'impegno imminente è un po' diventato consuetudine delle conferenze stampa prematch di mister Luciano, appelli a cui la squadra risponde puntualmente presente e questo è ovviamente segno che il mister è entrato nella testa di questi ragazzi davvero in maniera devastante inculcandogli una mentalità da vera e propria squadra top. Ieri un'ennesima dimostrazione di forza su un campo ostico e storicamente non fortunato per i colori azzurri ricordiamo un po' tutti la clamorosa sconfitta e rimonta della passata stagione da 0-2 a 3-2 una rimonta che si concretizzò nel giro di appena 7 minuti e che comunque ha lasciato delle scorie molto dolorose una sconfitta che è stata riscattata alla grande con un successo di estrema facilità frutto di un dominio incontrastato 90 minuti su 90 anche in 10 uomini il Napoli non si è minimamente scomposto ha continuato a fare la sua partita con Lobotka a fare da schermo a dirigere le operazioni dinanzi ai due muri ovvero Amir Rachmani e Kim Min Jae e anche la gestione in 10 contro 11 è segno di una squadra davvero granitica nelle proprie certezze tecniche, tattiche e mentali. Il gol del vantaggio è stata un'autorete da parte di Ismaili qui il tutto è nato da una parabola magica di Kvicak Varaskelia che ha servito Zielinski e poi Ismaili avendo visto Osimè al suo fianco per provare ad anticiparlo ha poi infine spedito il pallone nella propria porta e poi il raddoppio è stato il diciannovesimo gol in questo campionato di Victor Rosimè, 19 gol in 20 partite per lui per il nigeriano e l'ottavo gol consecutivo in campionato ovvero è andato a segno per 8 giornate di fila in Serie A per 9 partite di fila se teniamo conto anche della trasferta di Francoforte senza ovviamente contare Napoli-Cremonese di Coppa Italia nella quale il numero 9 azzurro fece il suo ingresso in campo soltanto ai tempi supplementari ma oltre al calcio spettacolare che questa squadra offre emerge la straordinaria compattezza la straordinaria solidità e l'eccellente lavoro anche in fase di non possesso perché infatti quello di ieri è stato il quinto clean sheet consecutivo in trasferta tenendo conto anche delle ultime partite in casa e il quinto clean sheet nelle ultime sei gare infatti nelle ultime sei giornate il Napoli ha subito soltanto un gol e mi riferisco a quello siglato da Stefano il Sciarawi in Napoli-Roma ad un quarto d'ora dal termine rete che fu fortunatamente ininfluente considerato che poi dopo pochi minuti arrivò la girata del ciolito Simeone a regalare una vittoria che fece davvero esplodere di gioia fuori grotta in una delle tante notti magiche di questa stagione stellare e dunque analizzando le prestazioni dei singoli ovviamente Kvara e Dosimen come sempre come sempre protagonisti Victor ieri va detto ha sbagliato qualche gol di troppo però ovviamente non gli si può davvero rimproverare nulla per quella che è comunque la sua dedizione per quello che è il suo sacrificio in campo lo vediamo sempre attaccare ogni singolo spazio inseguire ogni singolo pallone mandare inevitabilmente in affanno i calciatori su cui si fionda costantemente andando appunto sempre all'inseguimento della sfera e poi ovviamente c'è il solito maestoso Stanislav Lobotka del quale oltre alla straordinaria tecnica la straordinaria visione di gioco c'è da esaltare il lavoro monumentale in fase di non possesso lo slovacco è sempre al posto giusto nel momento giusto e davvero si sta consacrando sempre di più come un centrocampista anche recupera palloni sembra davvero avere la calamita sui piedi e davvero parliamo di un calciatore che si sta fermando sempre di più come il vero e proprio faro il vero e proprio fulcro del gioco di questo Napoli e poi c'è da rendere onore al merito anche per quanto riguarda i due centrali che abbiamo già citato prima ovvero Amir Rachmani e Kim Minjie Amir Rachmani è sempre tra i meno menzionati ma non per questo tra i meno protagonisti di questo Napoli nel quale davvero ogni singolo calciatore è pronto a gettarsi nel fuoco per i suoi compagni Amir Rachmani a mio avviso lo possiamo definire il degno erede di Raul Albiol un vero e proprio muro un leader silenzioso della fase difensiva che sa agire anche da appunto da regista difensivo e poi al suo fianco c'è Kim Minjie che come sempre stronca sul nascere ogni attacco avversario chiudendo ogni singolo spazio facendosi trovare pronto su ogni singolo pallone facendo prevalere la propria tempestività la propria capacità di lettura in ogni singolo intervento e davvero se volessimo rendere per bene onore al merito a questo Napoli ci sarebbe da parlare per ore e ore non possiamo poi anche che elogiare il grande capitano Giovanni Di Lorenzo sempre più condottiero tecnico e carismatico c'è ovviamente da esaltare quelle che sono anche le sue doti umane e dunque non resta che proseguire su questa strada perché davvero così questa squadra ha tutti i presupposti per non porsi alcun limite ieri ripeto altra vittoria assolutamente da non sottovalutare per quello che è il suo valore perché ripeto il Castellani è un campo ostico l'Empoli è una squadra che comunque sta conducendo un ottimo campionato che ha praticamente già in tasca la salvezza che dopo la ripresa del campionato aveva perso soltanto una partita prima di ieri sera mi riferisco alla sconfitta rimediata all'Olimpico contro la Roma i Toscani inoltre soltanto poche settimane fa avevano battuto l'Inter a San Siro e dunque non bisogna assolutamente prendere in considerazione coloro che che fanno di tutto per appigliarsi a qualcosa per cercare di sminuire ciò che di magnifico sta sta facendo questo Napoli perché appunto ciò che stiamo vedendo non è assolutamente frutto di demeriti degli avversari perché gli avversari sono semplicemente le vittime sacrificali di turno della strapotenza di questo Napoli da sogno ad occhi aperti e dunque detto questo e al momento tutto noi ci ritroviamo nei prossimi giorni ovviamente per i consueti aggiornamenti qui su Campania nel pallone Napoli che ora tornerà in campo venerdì sera per affrontare la Lazio allo stadio Diego Armando Maradona adesso in calendario dopo le tre trasferte consecutive ci sono tre partite consecutive in casa 5 marzo Napoli Lazio 11 marzo Napoli Atalanta e poi 15 marzo ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l'Eintracht Francoforte dunque un saluto a tutti un ringraziamento a coloro che hanno seguito questa diretta ed ovviamente un augurio di una buona serata